Romina Power. Viaggio romantico? La foto misteriosa fa sognare i fan. Viaggio romantico per Romina Power? La cantante ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale che la ritrae in aereo con aria sognante. Una partenza annunciata così, solo attraverso un misterioso scatto accompagnato da una frase altrettanto misteriosa. Nella foto, infatti, non si vede altro che Romina, seduta in aereo con vista finestrino, ma non abbiamo idea di chi stia partendo con lei. O magari sarà proprio lei a raggiungere qualcuno. La frase che accompagna lo scatto, infatti, ha aggiunto un velo di mistero. Orizzonti perduti o ritrovati. Per i fan della cantante, e della sua indimenticabile storia d'amore con Albano, è stato facile immaginare subito un riferimento all'ex compagno. Albano e Romina si sono persi e ritrovati più volte, sul palco e nella vita privata, per il bene della famiglia, ma anche per il legame che da sempre li unisce. E lo sguardo romantico di Romina in questo scatto, così come la frase misteriosa scritta sotto, hanno subito scatenato la fantasia dei fan che stanno sognando nuovi orizzonti. Grazie a tutti.